Ben ritrovati a Narrazioni, siamo oggi in studio con Nicola Baccelliere che ci racconta della sua associazione, ne è il presidente e l'associazione si chiama Respirare Sinapsi. Benvenuto Nicola. Salve. Allora, raccontaci innanzitutto perché di questo titolo? Cercavamo un nome incisivo, un po' diverso dal solito per poter descrivere gli intenti associativi, per cui il respirare indica un'azione quotidiana, respiriamo tutti per vivere, quindi vogliamo vivere delle sinapsi, delle connessioni, delle cooperazioni possibili all'interno di un mondo che si basa sulla cultura, si basa sull'arte e sulla diffusione di questi elementi che per noi sono importanti. E questo impegno nel mondo dell'arte e della cultura è a 360 gradi, di cosa vi occupate nel dettaglio? Ci muoviamo su più fronti, quindi proponiamo degli incontri tematici specifici che possono andare dalla presentazione di un libro, di un testo, fino alla proposta di concerti. Lavoriamo nel mondo delle scuole proponendo dei laboratori di alfabetizzazione audiovisiva e produciamo delle piccole produzioni audiovisive, appunto. Ecco, noi stiamo vedendo qualcuna. Esatto, esatto. E quindi ci muoviamo a 360 gradi. Di recente, circa due anni e mezzo, ci muoviamo nel mondo della produzione e della coordinazione artistica, proponendo a livello nazionale delle mostre e delle esposizioni. E infatti ci raccontavi di mostre anche a Milano. Sì, ci spostiamo, ci spostiamo. L'ultima che abbiamo completato è stata una mostra con il Museo Nazionale di Matera fatta fino al 30 giugno e adesso ritorneremo a Milano il prossimo inverno per proporre una mostra di arte contemporanea, videoarte, su un artista che si chiama Luis Gomez, quindi è monografica nei luoghi della fabbrica del vapore che poi è direttamente legata all'assessorato alla cultura del Comune di Milano. Assolutamente. E la vostra associazione ha sede dove? A Dopido Lucano. A Dopido Lucano. Però da Opido poi vi spostate un po' dappertutto? Ci spostiamo. Un po' dappertutto, anche in Europa, perché avete avviato un progetto di Erasmus. Sì, facciamo mobilità giovanile, partecipiamo al progetto, al grande progetto europeo Erasmus Plus, quindi siamo soprattutto una sending organization, quindi ci occupiamo di inviare all'estero dei ragazzi, soprattutto Lucani. E' per noi importante perché poi capiamo che quando ritornano hanno una testa diversa, una mente diversa. Sembrerà banale dirlo, ma tornano davvero cambiati. Piccole esperienze tematiche, perché ci sono dei temi anche in questi viaggi che facciamo, che poi sono degli scambi culturali, ma anche dei piccoli corsi in generale durano mediamente una settimana, giorno più, giorno meno. Quindi andate un po' a coprire tutta la fascia dei giovani e anche dei più piccolini, perché mi dicevi fate corsi per le scuole. Facciamo anche corsi per le scuole. A partire dalle scuole primarie, insomma. Esatto. E di che cosa si occupano questi corsi? Siamo dei corsi di alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo, per cui soprattutto per le nuove generazioni, i cosiddetti nativi digitali, ce l'hanno un po' nel sangue questa comunicazione audiovisiva così diffosa e cerchiamo di aiutarli a dargli un ordine, perché un conto è avere inconsciamente degli input e un conto è riuscire a ordinarli, perché ci rendiamo conto effettivamente che quando per esempio andiamo a ragionare sul linguaggio basico dell'audiovisivo e proponiamo delle immagini, loro le riconoscono e ci sanno individuare quali sono quelle effettuate in modo corretto, ma forse non ci sanno dire perché, quindi noi andiamo ad agire su queste modalità, sul perché. Cioè sulla consapevolezza un po' dell'utilizzo di questi strumenti. E quali sono i riscontri? I riscontri sono positivi, perché innanzitutto i ragazzi si divertono, lo fanno in un contesto di scuola prevalentemente pubblica o comunque paritaria e che per noi è un dato importante perché uno dei nostri aspetti peculiari è quello di lavorare all'interno di una concezione del pubblico, dell'arte indipendente, consapevole e fattibile, perché si può fare anche in Basilicata. Bisogna lavorare, è un lavoro molto duro, però si può fare, questo è quello che voglio dire. Questo è un bel messaggio che lanciamo, e che devo dire lanciamo spesso all'interno di questa trasmissione, perché noi diamo voce un po' ai volti della Basilicata, a quelle associazioni, anche persone singole, che decidono di investire non solo nel loro futuro, ma anche nel futuro della propria regione, di farlo con consapevolezza e anche con quel giusto slancio emotivo che si deve avere nei confronti della propria terra. Progetti futuri? Ce ne sono diversi, continuare nell'ambito della coordinazione artistica, torneremo a Milano il prossimo inverno, e poi continuare in tutto quello che abbiamo fatto. Poi ci sono alcune manifestazioni, alcune rassegne, alcuni progetti che vanno avanti, che magari nascono in seno all'associazione e poi si muovono in maniera totalmente indipendente. Per esempio, uno degli ultimi progetti si chiama Disfusioni, che appunto nasce all'interno di Respirare Sinapsi per motivi tecnici, volendo, ma che è un'anima totalmente indipendente, io ci collaboro anche concretamente e il nostro obiettivo per quest'ultimo progetto è di avere una rassegna che sia permanente nel tempo e variabile che si muove all'interno del territorio, perché vogliamo valorizzare dei luoghi che non sono magari stati pensati per la promozione artistica, ma che vengono trasformati, tra virgolette, per l'occorrenza, sempre in modo indipendente. Che cosa vuol dire? Magari, come abbiamo già fatto, andare in un luogo storico, siamo andati in un parco archeologico, la Villa di San Gilio, sempre nel territorio di Oppedo Lucano, un luogo molto bello, una villa del primo secolo, quindi di età imperiale, abbiamo proposto un concerto di musica rock elettronica, quindi devo dire che c'è stato un buon rischio. Esatto, esatto. Molto bene, molto bene. Noi ti ringraziamo davvero per questo racconto così appassionato di quello che fate all'interno di respirare Sinapsi e ti facciamo i complimenti insomma anche per le attività che andrete a mettere in campo, oltre a fare un in bocca al lupo insomma per tutto quello che farà ancora respirare Sinapsi. Grazie ancora per essere stato con noi e grazie anche ai nostri telespettatori e alla prossima puntata.